Siamo tornati all'Uitas Bar, Bar Dasquake Dragon Quest, stiamo aspettando che apra. Ci sono i turni, se voi avete intenzione di venire, alle 2 e alle 4 di pomeriggio per pranzo e alla sera alle 6 e alle 8. Sono turni, è quasi obbligatorio la prenotazione, soprattutto il sabato e domenica, mentre in settimana dovete arrivare prima, mettermi in coda e aspettare. Tipo oggi lunedì ho provato a prenotare perché ci saranno messe due posti di prenotazione disponibile. Siamo qui che aspettiamo, vi faremo vedere poi cosa prenderemo e com'è. Tanto vi faccio vedere un attimo il menu completo, tutto video. Non so se si vede bene. Questo è un granchio, la cuoccia di pollo con lo stem, gli slime, la mano che esce, mini medaglie fatte a pizza. Tutti i tipi di cocktail, la bocca di birra, la cozione, tutti. I cocktail speciali di Dragon Quest 10, uno per ogni personaggio scegliibile all'inizio. di dolci ispirati ai mostri, il vino, i biscotti da portare via, lo scrigno con i biscotti di cioccolato. Questo mi sa che ce lo portiamo via. Non so cos'è, dopo andremo alle onsen e lo vedo bene come merendine. Sì. Adesso entriamo e faremo via com'è. E man mano, carrellata di cibo. Carrellata di cibo, bevana dei pipi di Dragon Quest, bevana dei nani che con questi 10, bevana degli ezi. E adesso arriverà dell'altro. E man mano vi faremo via cosa mandare. Mela. 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 3, 2, 1. Mela. 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 Oh? Ah. Sorry. Oh, thank you. Beautiful. Beautiful. la fiamma e le pincette ha fatto bene mi guarda ha preso beautiful rock bombo ci sta preparando il dolce intanto sono arrivati gli spaghetti con il corno dell'unicorno coniglio di dragon quest guarda che bello secondo giro di bibite guarda che bella questa pozione gialla latte rigenerativo secondo giro di mini medaglia aspettate ma mangiare le pezzette con le bacchette è una sensazione impagabile guarda che bella abbiamo un poco tutto per noi è meraviglioso adesso continueremo perché bisogna prendere un po' di roba perché vogliamo arrivare a questa meraviglia che è la mini medaglia non vendibile quindi sono qua a testa da punti e vogliamo averla continuerà il nostro viaggio culinario a qui si Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Con tutti gli slime piccoli sotto. Abbiamo bevuto tutto, ancora due drink al latte normale, cioccolato, tricocco, guardate che belli. Spero vi sia piaciuto e al prossimo video. Ciao. 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 Ciao.